Non ci posso credere ragazzi, il trailer di Ahsoka è finalmente uscito, è stato annunciato proprio ieri durante la Star Wars Celebration, il trailer che tutti i fan aspettavano e non potete capire quanto la fandom sia esplosa, non preso anch'io. Col fiato sospeso non riuscivo a crederci che veramente fosse stata rilasciata una cosa così stupenda. Per prima cosa mi è piaciuto rivedere semplicemente Sabina, anche se è stato strano rivederla personalmente con i capelli lunghi dato che non si abbinava molto al suo stile. E che dire, già nel primo trailer che abbiamo avuto c'è veramente tanta tanta azione, è bellissimo rivedere anche Hera e Chopper in versione live action. E ci sono stati mostrati questi due Jedi caduti, il primo che si chiama Baila e la seconda che si chiama Scineca, a quanto pare sono stati convertiti a lato oscuro o si sono convertiti da soli? Questo ancora non lo sappiamo, non sappiamo nemmeno se sono effettivamente dei veri Sith oppure sono semplicemente dei Jedi oscuri, ovvero dei Jedi convertiti a lato oscuro che però non hanno il titolo da Sith. Rivediamo la stessa scena che avevamo visto nel finale di Rebels e finalmente Ahsoka si rincontra con Sabine. Anche se io vorrei capire questa cosa, ovvero come mai Sabine ha i capelli inaspettatamente lunghi mentre come sappiamo nel finale di Rebels si aveva corti? Magari questa cosa ci vorrà spiegata più nel dettaglio. Rivediamo anche Malmoth ma finalmente dopo tanto tempo, dopo averlo vista in Under, la vediamo in versione olografica. Poi dal nulla inizia a comparire quello che sembra essere Tron di spalle e veramente questa parte mi ha dato fin troppo hype. Rivediamo anche la tizia che aveva duellato Ahsoka nella seconda stagione di Mandalorian. E in seguito Ahsoka stessa incontra il Jedi caduto Bylan che accende la sua spalla laser e combattono in quello che sembra essere una specie di luogo di accesso al World Beating World. Che come sappiamo mesi fa c'era stato già confermato che il World Beating World avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella serie di Ahsoka. E grazie anche a quel leak che mesi fa ci ipotizzò che avremmo potuto vedere un'ipotetica scena di Anakin contro Ahsoka in un ipotetico universo alternativo. Dove Ahsoka era rimasta nell'ordine Jedi e duellava contro Anakin su Mustafara al posto di Obi-Wan. A fine del trailer vediamo anche Ezra che finalmente rivediamo dopo tantissimo tempo in versione live action parlare con Sabine. E vediamo Ahsoka combattere contro quello che sembra essere una specie di inquisitori o inquisitrice e che lo notiamo dal tipo di spada che porta. E che mi ha fatto rimanere basito non solo perché non mi aspettavo che avrebbero fatto rivedere un inquisitrice o un inquisitore in versione live action. Ma dato che si tratta di una serie quella di Ahsoka ambientata dopo la battaglia di Endor e come ben sappiamo gli inquisitori sono stati dismessi poco prima della battaglia di Yavin. Mi sembrerebbe strano che questo inquisitore sia rimasto al servizio dell'impero. O magari chi lo sa è un inquisitore che è scappato e che è rimasto nascosto. Questa cosa non la possiamo sapere fino a quando non vedremo la serie. E per concludere vediamo uno di quei droidi di addestramento presenti nel Tempio Jedi di Koru. Ustante che ci fa presagire che con molta probabilità Ahsoka potrebbe anche tornare al Tempio Jedi di Koru. Ustante così si chiude questo bellissimo trailer che è stata una figata pazzesca e che veramente mi ha fatto pensare che questa serie sarà di sicuro molto più piena di azione di quello che abbiamo avuto fino ad adesso e sarà sicuramente migliore. Di tutte le altre serie che abbiamo visto finora persino di quella di Obi-Wan. Aspetto veramente con tantissimo hype l'arrivo dell'estate e di agosto per vedere finalmente questa serie di Disney Plus che sicuramente spaccherà di brutto e sarà epica, sensazionale e stupenda. Aspetto